C'è chi è? Allora, terzo premio numero 3582 3582 Serie A Non ha vinto nessuno, la tristezza Mamma mia, ma sono troppo serio Va bene, la mano vergine estrai di nuovo, signor La mano vergine La mano vergine estrai di nuovo Di nuovo Allora, Lorenzo in quanto vergine si presenta anche lui Secondo premio All'estrazione Numero 3, 3, 4, 6, serie A Ripeto 3, 3, 4, 6, serie A Per una A A E ora il premio Avete capito? No, ripeti Basta Allora Ma andiamo starci due Primo premio Numero 2, 9, 8, 5, serie A 2, 9, 8, 5, serie A Serie A Serie A Serie A Serie A Serie A Sì, sì, viva Faccio Manuela Alcuri Sì No, io sono fatto a piazza, non Manuela Alcuri, eh Sì Se c'è qualche donzella, fate diamanti, eh Sono pronto Sì, sì 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 Sì